Torna domenica prossima a Loreto a Prutino la manifestazione chiamata Fiera della Madonna. Giunta alla 65esima edizione, la fiera che un tempo era una vera e propria compravendita di animali, oggi è una rievocazione con la presenza delle razze bovine da carne e da latte. All'interno spazio anche alla gastronomia locale con degustazione di carne bovina. Proprio un impegno, dato che quest'anno la Fieruccia, cosiddetta Fiera della Madonna, compie il 65esimo anno di età. Quindi mi sembrava doveroso che la prologo di Loreto a Prutino riprendesse in mano la festa. Ci saranno molti stand espositivi, verranno degli animali, ovini, bovini, volatili, quindi tutto quello che riguarda l'agricoltura e vi invito tutti quanti a intervenire domenica mattina alle ore 9 presso il piazzale Casa Marte. Ovviamente ci sarà anche la parte culinaria con un gazebo dove serviremo dei piatti, poi sarà sorpresa, vi invito a intervenire. Oggi è limitato rispetto agli altri due anni ad una sola giornata perché comunque ci sono state le difficoltà ma penso che a breve torneremo come era stato fatto negli ultimi anni. Quest'anno si sta interessando la prologo in collaborazione con Chiappini Pasquale, l'associazione epica di Loreto, quindi cercheremo e stiamo cercando e ci riusciremo a mantenere un po' questa tradizione.